Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Eccoci qua, come promesso, già seduto al posto che è stato di Giorgia Meloni, Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, reduce anche lui dall'ultima manifestazione elettorale. A Piazza del Popolo eravamo tantissimi, eravamo di più degli altri ieri. Ma chi ha contato? Io, uno per uno. Senta, Letta, sono contento che la vedo già in fase di disimpegno. Che disimpegno? Sono carico come una mina. Senta, proprio da questo volevo partire. Dalla mina, no? Beh, un po' entra in carattere. Però si era detto che questa campagna elettorale è brevissima, è un problema, e poi in realtà è sembrata lunghissima. Non so se è stato così anche nella percezione di voi che l'avete combattuta. In realtà poi il fatto di essere condizionata dagli avvenimenti esterni fortemente ha proprio deformata questa campagna. È una percezione che avete avuto anche voi? Sì, soprattutto perché poi c'è stata una campagna elettorale che è cominciata insieme a tutta quella fase ipercomplessa delle alleanze, le liste d'affare, tutto di corsa ad agosto, e soprattutto in una situazione in cui chi gestiva queste cose aveva chiaramente la netta sensazione che la percezione del Paese non fosse che era caduto il governo Draghi. Io nella fase, per esempio, di agosto, avevo l'impressione che la gente continuava a pensare che no, c'è sempre Draghi che risolve i problemi. E io a spiegare, guardate che hanno fatto cadere Draghi, e non c'è più questo governo con la forza che aveva prima. Questo anche per tutta la vicenda delle bollette, sulle quali avere avuto un governo nel pieno delle funzioni sarebbe stato sicuramente molto meglio. Questo è un problema, lei prende un po' il toro per le corna. Voi avete molto puntato sull'agenda Draghi, che non è di per sé un quaderno, non è una rubrica, è un metodo di governo soprattutto, una modalità condivisa, razionale, ma non neutra di governo. Mettiamola in questi termini e ovviamente mi correga se sbaglio. L'impressione è che, come sempre, poi il sangue, il sudore della campagna elettorale, questa cosa l'abbia un po' coperta. Come dire, noi vogliamo sapere se vincono i nostri o gli altri, non una modalità condivisibile o condivisa. Questo è vero, però avrà notato anche lei che ogni volta che in questo mese Draghi ha preso la parola, ha detto una cosa, è caspita, cioè ha lasciato il segno. Quando ha fatto il discorso a Rimini al meeting, quando è andato adesso alle Nazioni Unite, alla Regione Europea, io credo che Draghi non abbia finito di dirla sua nella politica italiana, questa è la mia impressione. Mi permette una domanda che forse scomoda dentro il PD. Ho notato che quando Draghi ha detto non sono disponibile e qualcuno da destra o dai Cinque Stelle ha detto adesso si è smontato il giochino per Calenda e Renzi, che dicevamo, puntiamo. Curiosamente l'ho sentito anche dall'interno del PD qualcuno a dire come dire, siamo contenti. Ma Draghi è evidentemente una risorsa anche considerata tale da lei e da molti altri partiti democratici. Questo dà il senso che non tutti stanno nelle pagine dell'agenda Draghi, mettiamo in questi termini. No, in verità lì è scattato un altro meccanismo. Cioè dall'inizio della campagna elettorale, noi abbiamo Calenda qua. Cioè se lei prende le dichiarazioni, praticamente ce ne saranno 50 al giorno contro di noi. Quindi è anche naturale che a un certo punto... Un fallo di reazione. È veramente andata così. Senta, è già che ci siamo. Berlusconi. Ora, non dimentico, perché sono molto più vecchio di voi, che Berlusconi è anche quello che diede il via libera al suo governo. Quindi si pensa a un Berlusconi che, senza allusione sul suo cognome, però la rispettasse. Questa sera ci è toccato quasi normalmente in diretta di vedere un Berlusconi che la imitava grossolanamente, come dire uno che vive a pane e tasse, tassare gli italiani, tassare i ricchi, quelle cose, come dire, un po' macchiettistiche, no? Peraltro lo stesso Berlusconi che invece ieri, non scherzando, ha fatto una descrizione di Putin, Zelensky e la tragedia ucraina, insomma, disarmante, no? Che cosa succede? Le confesso che ho un po' di difficoltà a affrontare il tema, perché io ho sempre molto rispetto, soprattutto per le persone che hanno una certa età e che evidentemente, come nel suo caso, io penso che sarebbe molto meglio se chi gli sta accanto gli evitasse di fare le figuracce che ha fatto in queste ore e che ha fatto anche ieri. Però ieri, quello che ha detto, insomma, uno l'ha guardato e dice, ha detto quello che pensa. Esattamente come, lei si ricorderà, la campagna elettorale, come è iniziata? Il vero primo squillo di tromba della campagna elettorale, è iniziato con un'intervista, sto cercando di ricordarmi qual era la radio, ma insomma, ha una radio privata, la mattina in cui Berlusconi dice, noi vogliamo fare il presidenzialismo e poi, perché una volta fatto il presidenzialismo, Mattarella si deve dimettere, perché ovviamente è cominciata così la campagna. Anche lì, non è che era stato frainteso, era quello che pensava, così come ieri su Putin, ha detto esattamente quello che pensa, anche per un altro motivo. Berlusconi è stato l'unico leader occidentale che ha visitato la Crimea una volta che la Crimea era stata ammessa. Accanto a Putin. Quindi ha già legittimato. E le frasi che ha detto ieri sono frasi che hanno due conseguenze. La prima, di carattere generale, cioè lui considera legittimo il fatto che un paese usi i carri armati per cambiare il colore politico del governo del paese vicino. Secondo, sulla vicenda, diciamo, nel caso in questione, Ucraina-Russia, il suo ragionamento è stato sostanzialmente quello di dire, questi ucraini hanno un po' rotto le scatole, si tolgano di mezzo, diano a Putin quello che deve avere e la chiudiamo qua. Ed è evidente, con quelle frasi anche, hanno resistito, se si ricorda quello che ha detto, oltre a quella frase incredibile sul governo di persone per bene. Di persone per bene. Sostituire Zelensky con persone per bene. Ecco, le frasi di ieri sono clamorose. Diciamo che chi lo intervistava, cioè Bruno Vespa, non ha infierito sul come sostituirlo, perché il problema è che sostituire Zelensky non è che dice scusa, ti dimetti. Ti dimetti. È qualcosa che avviene più forzosamente. Esattamente. E magari... Esattamente. Quindi, quello che è accaduto ieri e questa posizione, se noi la sommiamo a quello che quotidianamente dice Salvini, esce, diciamo, dalla questione dell'età, ecco, per essere chiari, e entra dentro un'altra logica, cioè la destra italiana è profondamente ambigua sulla vicenda oggi più importante di tutte, che è quella sulla quale noi ci giochiamo anche i rapporti internazionali, le nostre alleanze. Si è seduto lì su quella sedia, poco fa l'ha sentita, io non le voglio dare il vantaggio concorrenziale di dire i commenti. Non ho sentito tutto, però. Però la posizione di Giorgia Meloni su questo è, una volta avrei detto, adamantina, nel senso che è molto consonante con la sua posizione sull'Ucraina e le armi. Sì, con una differenza netta che rende la sua posizione, come dice lei, adamantina sull'Ucraina molto debole e molto ambigua. E qual è la differenza? che Giorgia Meloni ha sulla politica europea e sulla politica di rapporto con la Russia la stessa posizione sostanzialmente del governo polacco. Qual è la posizione del governo polacco? Molto rigido nell'atlantismo, cioè molto filoamericano e molto euroscettico, se non addirittura anti-europeo. Nel senso che il governo polacco, questo governo polacco, su tutte le scelte europee più importanti, si mette di traverso. Oltretutto c'è anche al suo interno tutta una serie di questioni sullo Stato di diritto e si trova ad avere quindi da parte della Commissione europea un atteggiamento. Però il partito di Kaczynski è nel gruppo dei conservatori che è presieduto da noi. Non è una scuola. Sì, però detto questo, a me che l'Italia, che l'ambizione di Giorgia Meloni è di fare dell'Italia una seconda Polonia con tutto il rispetto per i polacchi è un disastro per noi. Ma per un motivo molto semplice. La Polonia non è nell'euro. Noi siamo nell'euro. Quindi noi, il problema non è fare come la Polonia o l'Ungheria, già quello a me non piace per tutte le questioni dei diritti e dello Stato di diritto. Il problema è che noi dobbiamo trovare le intese con i paesi dell'euro. Perché noi abbiamo il debito pubblico più grande di quell'area e soprattutto perché, come si è visto anche col PNRR, è dalle scelte che vengono da lì che arrivano i soldi per fare gli investimenti, crescere. Il PNRR, quando io litigo sul fatto di dire vogliono rinegoziarlo, abbiamo questi soldi europei. Quante volte abbiamo buttato via soldi europei in passato? Usiamoli. Lì dentro c'è, per esempio, questa misura sulle scuole che a me colpisce sempre molto. Perché i nostri ragazzi, i nostri figli oggi, la mattina fanno un'esperienza che è abbastanza incredibile. Lasciano casa, vanno nel Novecento, passano la mattina nel Novecento e poi rientrano nel Duemila ritornando a loro strumentazione tecnologica, eccetera. Il Novecento cos'è? Entrano dentro scuole che sono le stesse che lei ed io nel Novecento abbiamo fatto e frequentato. Nel PNRR ci sono i soldi e c'è il progetto per centomila aule tecnologicamente avanzate, 4.0, che consentiranno ai nostri ragazzi di evitare questo, diciamo, viaggio nel tempo. E la mattina saranno nel Duemila e avranno... Perché bisogna fare tutte queste polemiche su quelle vicende? Quei soldi sono soldi europei che ci hanno dato. Usiamoli e cerchiamo di evitare... Oggi è anche una giornata in cui ne è successa un'altra gravissima. In tutto il caos dell'ultima giornata di campagna elettorale è passata quasi inosservata. Ma il leader, uno dei leader del centro-destra ha chiesto le dimissioni della Presidente della Commissione Europea che ha detto a suo dire delle cose che non andavano bene, le ha smentite, sono state sistemate e lui è andato sotto la sede a Roma della Commissione Europea a chiedere le dimissioni ma vogliamo cominciare così il rapporto con l'Europa di questo gruppo di... Io penso che sia una cosa preoccupante per l'Italia. Motivo per il quale il mio comizio a Piazza del Popolo l'ho terminato con Viva l'Europa e viva l'Italia e con forse la più bella frase di David Sassoli, uno dei più grandi europeisti del nostro campo e dell'intera Europa, scomparso da Presidente del Parlamento Europeo, sul fatto che alla fine lì, quella è casa nostra. Ci possiamo litigare, discutere, litighiamo con i francesi, litighiamo con i tedeschi, ma quello è il luogo dove si trovano le soluzioni anche ai nostri problemi. Senta, però le cose si sono delineate. Noi abbiamo l'impressione che così come in un episodio della commedia dell'arte goldoniana ci sono i personaggi, quello magari un po' più anziano che la dice grossa, quello che è poi quella che è incaricata di rimettere in sesto le cose, però sta in quella famiglia. Poi dalla parte vostra potrei andare avanti, diciamo. Cioè è come se la campagna elettorale si fosse incardinata su binari che sono ben precisi, dando a qualcuno la necessità di spararla più grossa per farsi notare. Succede anche dalle altre parti rispetto al centro-destra. L'idea è che di una partita gli altri si arrabbieranno, però che sta tra lei, la Meloni e Conte. Come se ci fossero delle polarizzazioni con le incursioni ovviamente di Calenda a cui già ha fatto riferimento. Che è come quello che succede nella realtà nella scuola del Novecento. Quello che è un po' più piccolo allora deve farsi notare di più. però in questa partita la politica non è stata un po' assente, ovvero sarà che sono novecentesco io sempre per usare quelle categorie, ma le grandi differenze si sono potute notare solo verso il passato con efficacia non enorme per dire il vero sul fascismo, comunismo, eccetera. e non c'è un'idea di futuro. Ho notato che tra le forze politiche non si disegna non il futuro nel senso di dire i viaggi su Marte, però verso dove si porta l'Italia. Questo è un problema della politica e voi cosa proponete? Se un giovane si è parlato tanto i giovani votano per la prima volta dei tantissimi che votano per la prima volta per il Senato perché si è abbassata l'età, ma a un giovane uno cosa dice? Non per l'uso del PNRR o per quello che succede domani. Per quello che succede tra dieci anni la prospettiva verso cosa ci si batte quando si era più giovani c'era chi aveva il soldo dell'avvenire che aveva un'altra cosa, eccetera però c'era un'idea di futuro. Adesso? Eh, lei è entrato coi piedi nel piatto della vera questione di questa campagna elettorale di quello che avrebbe dovuto essere e in parte non è stata. E a me ha stupito molto questa cosa perché se io dovessi dire quali sono le parole con le quali disegnare il futuro alla fine le parole sono tre le parole sono lavoro, ambiente e diritti. La nostra idea di futuro è un'idea di un'Italia nella quale su queste tre parole si riesce a cambiare a superare gli ostacoli che oggi rendono sull'ambiente il fatto che il nostro paese è iper conservatore su queste cose non ha riconosciuto il fatto che la questione ambientale è centrale. Abbiamo cominciato la campagna elettorale col ghiacciaio della marmolada la siccità i roghi è finita con la tragedia di cui purtroppo oggi con le immagini strazianti della famiglia del povero Mattia l'ambiente i ragazzi dei Fridays for Future che hanno protestato oggi io li ho incontrati ieri abbiamo discusso lungamente la questione ambientale è fondamentale non è stata centrale in questa campagna elettorale noi ci abbiamo provato lei pensi che io ho provato anche fisicamente ho girato parte d'Italia con un bus elettrico per denunciare un po' spernacchiato dagli avversari appunto c'è uno che ha fatto la campagna elettorale col jet privato che ha passato il tempo a prendere in giro sul bus elettrico e sulle colonnine uno a caso così il tema di fondo è che quando l'ambiente non lo mettiamo veramente al centro delle cose e lo marginalizziamo non ci rendiamo conto che veramente il futuro non c'è così come l'altra questione dei diritti io penso che la questione dei diritti invece abbia senso perché il futuro è un futuro nel quale il nostro paese negli ultimi mesi anni si è voluto chiudere la porta rispetto a fatti che in altri paesi sono già normati guardi le faccio due esempi che sono secondo me molto il primo la tecnologia in medicina ha cambiato profondamente il tema del fine vita rispetto a 30 anni fa 40 anni fa prima era il buonsenso del medico della famiglia che risolveva delle situazioni adesso la medicina fa sì che la vita vegetativa possa essere una parte molto la corte costituzionale ha chiesto non ha chiesto ha imposto al Parlamento di legiferare sul suicidio assistito ci abbiamo provato noi la destra ha bloccato perché dice no tutto ciò che entra in questa materia per noi non si deve fare sbagliatissimo perché è un modo per aiutare le famiglie i medici ad avere dei punti di riferimento anche giuridici rispetto a queste vicende così drammate l'altro esempio l'anno scorso sono state le Olimpiadi lei mi chiederà cosa c'entrano le Olimpiadi improvvisamente noi italiani abbiamo scoperto che ci sono tante medaglie che abbiamo vinto in atletica leggera ma improvvisamente abbiamo scoperto che chi le vinceva non erano bianchi ariani ma erano ragazzi che sono originari di famiglie immigrate e improvvisamente un'intervista di uno di loro ha detto io ho potuto correre per la nazionale soltanto a 18 anni perché la cittadinanza l'ho potuta avere solo a 18 anni e improvvisamente il paese ha detto ma forse io l'ho trovato una cosa di un cinismo il fatto che si ragioni di una cosa che dovrebbe essere un diritto il fatto di dire un ragazzo che sta a scuola con i nostri ragazzi e che fa tutto il percorso scolastico che parla il vernacolo livornese come lo parla il ragazzo livornese che sta in Corea è una cosa che è secondo me intollerabile perché l'integrazione per figli di immigrati che sono già qui che lavorano qui è una cosa che è utile per tutti allora quando lei mi dice futuro io le ho fatto due esempi e le devo aggiungere il terzo il lavoro perché il tema del lavoro purtroppo è rimasto in questa campagna elettorale schiacciato da tutte le discussioni ma il tema del lavoro è fondamentale penso al lavoro dei giovani soprattutto i nostri giovani se ne vanno perché da noi il primo lavoro è uno stage non pagato e il secondo è un altro tiroscinio gratuito se ne vanno fuori e hanno un primo stipendio a 22 anni la nostra proposta per esempio su questo qual è via stage gratuiti e tirocini gratuiti e finti stage si fanno solo dentro un percorso curriculare per esempio dentro gli studi universitari è naturale che ci sia un percorso di il primo lavoro deve essere incentivato totalmente decontribuito e detassato in modo tale che l'ordo e netto siano la stessa cosa in modo tale che i giovani abbiano l'incentivazione che il datore di lavoro ovviamente spinge in questo caso e il primo lavoro sia un lavoro pagato e sia a 22 anni a 21 anni non a 35 anni come capita oggi lei sa che glielo sto per chiederlo immagina però perché voi avete perso così tanto terreno tra i lavoratori io lo chiedo anche perché lei è tornato da poco cioè dice se fosse il segretario del PD da 10 anni direi cosa avete combinato penso che non avrei resistito cioè è una roba che distruggerebbe chiunque e anche l'altra cosa sento sempre dire bisogna tornare nelle periferie ma è impressionante che il primo partito della sinistra il partito della sinistra del centro sinistra scopra di non essere periferie cioè quando se n'è andato cioè beh in verità c'è una perdita di radicamento sia sociale sia territoriale che è un campanello d'allarme che suona troppo a lungo sì ci sono stati degli errori sì ci sono stati degli errori il primo errore è stato quello di non capire che la ricerca della competitività nel campo del lavoro non doveva essere mai scissa dal tema della stabilità del lavoro e questo in Italia ha voluto dire una precarietà diffusa e la precarietà diffusa ha creato in giro per il paese un sentimento di instabilità terrificante il secondo è il tema dei servizi nelle aree di prossimità e questo è l'altro grande questione e penso alla salute alla sanità penso ovviamente ai servizi anche di altro tipo i comuni i servizi alla persona il nostro paese su questo ha riscoperto con la pandemia invece l'importanza della prossimità sia sulla salute noi per esempio vogliamo rilanciare la funzione del medico di famiglia per noi è essenziale è la questione su cui lavoreremo di più sia sulla questione però dei borghi delle frazioni della prossimità territoriale perché si è scoperto lì che per esempio possono essere dei luoghi di lavoro per chi ha un lavoro di smart working per esempio è molto meglio che farlo dentro una periferia di una città dove la casa ti costa tre volte di quanto ti costerebbe se tu stessi in un posto più piccolo ma dove la qualità della vita è molto più elevata ma è evidente che questo si può fare se ci sono i servizi anche qui io torno so che non fa sognare il PNRR ma nel PNRR ci sono i soldi per portare la banda larga dovunque e questo poi può far sognare se pensiamo a un ritorno alla prossimità e al fatto di decongestionare le periferie quindi tutto questo per dire è vero però io da un anno e mezzo ho cercato di rimettere il lavoro al centro abbiamo vinto a Taranto le elezioni comunali in un posto dove avevamo una fatica immensa a parlare con il mondo del lavoro la prima volta che andò ebbe delle difficoltà mi ricordo io conto molto sul fatto che queste elezioni ci riportino fuori soltanto dall'essere fortissimi solo nei grandi centri ma andare dovunque nella zona della prossimità e il ragionamento tra l'altro della prossimità ha anche un altro effetto molto importante è evitare che il nostro paese si spopoli laddove la desertificazione crea anche il problema del diciamo aiutare il dissesto idrogeologico perché là dove non c'è antropizzazione poi dal punto di vista ambientale diventa un disastro questo ci ha portato ad un altro aspetto voi siete il partito fortissimo partito dei sindaci debole molto debole rispetto a come siete insediati il partito delle regioni cioè se uno vede cosa può succedere in Italia si accorge subito che il centro-destra già governa la maggioranza assoluta del territorio italiano in amministrazione regionale 15 contro 5 e però le grandi città Torino Milano no no ma i sindaci noi addirittura alla nostra area di centro-sinistra si rifanno il 70% dei sindaci italiani questa assimetria però dimostra cos'è la questione italiana per voi dal vostro punto di vista quello che uno mi pare che fosse un assessore di Siena prima a parlare del partito ZTL cioè partito fortissimo nei centri urbani poi che scolora sempre di più man mano che sia verso le periferie o verso i centri minori il segretario del PD che sta combattendo una battaglia elettorale ma che non si ferma evidentemente nel 25 settembre pensa a un qualcosa non dico di riscossa ma di cambiamento oltre a quello che abbiamo guardi la cosa fondamentale passa attraverso proprio quel ragionamento sui servizi che le dicevo prima noi abbiamo pagato durissimamente negli anni tutta la vicenda della sanità nel senso che la sanità con i tagli che ci sono stati tagli che cominciò peraltro Tremonti nel 2004 perché l'inizio è stato quella tetto alla spesa del personale sanitario retrogradato di un per cento l'anno ogni anno è che poi le nostre regioni hanno dovuto gestire e ovviamente questo è stata una delle cose che ha più di tutte creato perché quando lei deve chiudere un ospedale in un centro minore hai voglia a dire che quell'ospedale è troppo piccolo non garantiva le efficienze eccetera la gente vede il fatto che perde un servizio immediato quindi io credo che è da lì che bisogna ripartire e il discorso sulla salute sulla sanità Roberto Speranza è uno dei capilista della nostra lista stiamo insieme in questa avventura della lista Italia democratica e progressista ha proprio messo nel nostro programma come punto essenziale quello di dire che bisogna questo tetto alla spesa del personale sanitario va tolto e va rilanciata la salute pubblica la sanità pubblica come non si è mai fatto fino ad oggi due anni fa nessuno avrebbe pensato che il finale della campagna elettorale sarebbe stato condizionato anche da un fortissimo dissapore tra la leadership del PD e la leadership del Movimento 5 Stelle dico due anni fa perché due anni fa c'era una sorta di infatuazione reciproca tra Conte e chi l'ha preceduto nella guida del partito oggi sento dire e probabilmente lo dirà tra poco visto che viene qui forse è già in arrivo e così ci incontriamo ci parliamo non c'è molto tempo temo lo spazio di una pubblicità posso dire a Cairo di allungare lui sarebbe felicissimo però abbiamo i tempi poi finisce Salvini dopo la mezzanotte però dire con questa con questa dirigenza del PD non si può più parlare in buona sostanza è come dire schermaglia elettorale o c'è davvero una frattura insanabile sapendo che lei parla degli elettori che devono votare dal suo punto di vista per il PD e non per i 5 Stelle certo da parte mia non c'è nulla di personale e io non dirò mai una frase come quella lì nel senso che ogni partito si sceglie i suoi leader i suoi dirigenti e parli con i dirigenti di quel partito appunto almeno io sono abituato a vivere in partiti così nei quali c'è un congresso il congresso decide il leader e tu parli perché è il congresso che ha deciso quel leader c'è stata evidentemente una divaricazione fortissima non su una cosa banale no la divaricazione è stata sul fatto che la responsabilità che si è assunto conto di far cadere Draghi è quella che ci ha portato in questo casino adesso se la vogliamo proprio dire in tre parole in italiano corretto ecco credo che sia stata grave per l'Italia perché oggi avere Draghi che governava fino alla fine della legislatura cioè fino a marzo tra l'altro non fra cinque anni avrebbe consentito che in queste ore il governo sarebbe stato lì a preparare la legge di bilancio fatta ordinatamente lì dentro ci sarebbero state le risposte sulle bollette ci sarebbe stato il salario minimo perché avevamo trovato l'accordo sul salario minimo e invece non c'è nulla di tutto questo forse non per caso però la verità è che gli animo spiriti dei partiti sono scatenati perché si avvicinano al voto ma peggio mi sento però perché vuol dire che alla fine chi ha fatto cadere il governo alla fine ha pensato ai suoi interessi piuttosto che quelli degli italiani io credo che gli italiani sarebbero stati contenti di avere il salario minimo di avere la risoluzione per le bollette la riduzione delle tasse sul lavoro quello che noi proponiamo oggi che faremo nella prossima legislatura se gli italiani ci votano domenica è quello di concentrare le riduzioni fiscali tutto su una cosa ridurre il cuneo fiscale quindi riducendo le tasse sul lavoro dare ai lavoratori uno stipendio cioè un salario più forte che si traduca in una quattordicesima alla fine dell'anno ma tutte queste cose purtroppo sono diventate difficile per la caduta del governo quindi per me è stata una scelta profondamente sbagliata figlia di una interpretazione delle cose ancora più sbagliata vedremo in futuro cosa succederà un po' segnata allora queste parole dette da lei elegantemente però si capisce che non è una frattura da poco senta abbiamo praticamente finito il tempo le voglio chiedere una cosa che ho già chiesto ad altri se c'è un candidato oltre a quelli scontati che lei può indicare come emblema della battaglia che sta conducendo il suo partito in questa campagna elettorale di fronte agli elettori in questa tornata del 25 settembre un candidato emblema ma guardi noi abbiamo Luisa Torsi che è candidata a Bari nel collegio uninominale di Bari è la vicepresidente del consiglio scientifico del CNR è la più grande scienziata chimica italiana ha vinto grandi premi il corrispondente di un premio Nobel è la persona che sarebbe nel governo nostro un ministro dell'università di ricerca scientifica di fama mondiale che aiuterebbe quel campo a essere ancora più avanzato di quanto potrebbe essere per me è stato molto importante che una come lei abbia deciso di accettare la candidatura ne approfitto per dire a tutti coloro che ci guardano e che stanno nel collegio di Bari che votando beh si può fare campagna non è ancora mezzanotte di votarla perché sarebbe fantastico per la Puglia fantastico per Bari e fantastico per l'Italia e per il PD anche dove è? domenica sera al Nazareno? domenica sera al Nazareno perché è lontanissima ci collegheremo è lontanissimo ma non tanto stiamo parlando di 48 ore facciamoci godere questo sabato assolutamente non c'è neanche il campionato grazie Enrico Letta subito dopo la pubblicità arriva Giuseppe Conte grazie a tutti